buonasera ragazzi giorno 4 dei dolcetti consapevoli di maga moderna e come promesso oggi siamo in diretta da verona alzate la mano chi è a verona e chi non è verona alzate comunque la mano per dire ciao buonasera aspetterò che vi colleghiate un po così che possiamo iniziare alla grande quanto succulenta succosa e prelibata può essere questa puntata anzi questo dolcetto ciao laura con laura mi sono appena sentita e ci vedremo finalmente domani per la prima volta in carne ossa anche se ci conosciamo da un bel po ormai chi altro chi altro chi altro oggi è ancora festa e ed è la festa dei finti morti nel senso che coloro che non ci sono più in carne e ossa ma che vi assicuro sono tutt'altro che morti buonasera ragazzi cosa possiamo esplorare stasera nelle precedenti puntate abbiamo parlato di tante cose diverse ieri abbiamo parlato magari potete anche aiutare del corpo è stata una puntata dedicata al corpo e ve la suggerisco in quanto da veramente delle delle chicche degli approfondimenti allo stesso tempo degli strumenti con cui iniziare a cambiare le dinamiche col proprio corpo abbiamo parlato anche del trattamento facelift e del contributo che per sia l'essere che per i corpi e la giornata prima ancora abbiamo parlato di della paura e di quanto in realtà indica semplicemente che mandiamo ad essere manca nostro potere agli altri e a qualunque altra cosa e l'invito ovviamente di seguire anche quella puntata in quanto a me anni fa sarebbe avrebbe tipo svegliato e tuttora è un argomento che lavora tanto soprattutto quando faccio le persone molti non sanno l'origine dei propri delle proprie problematiche non riescono a venirne a capo e nell'argomento della paura o comunque nel depotenziarci c'è tanto l'origine di dei problemi che stiamo vivendo e nella prima puntata abbiamo parlato della scelta e allo stesso tempo di quanto non possiamo scegliere per altri e quindi un insieme di consapevolezza di allowance e di scelta la maggior parte di questi argomenti in parte li potete ritrovare anche nel podcast maga moderna su spotify che per chi non lo sapesse è il mio podcast dedicato agli strumenti di access consciousness e quindi in qualche modo a una magia interpretata in maniera moderna perché non so se lo sapete in realtà essendo più consapevoli avendo gli strumenti davvero creiamo magia semplicemente in maniera pragmatica veloce e moderna perciò eccoci qua la nostra quarta puntata cosa è richiesto per oggi tanti argomenti sono venuti in superficie e stavo valutando quale dei dolcetti percependo quale dei dolcetti sarebbe sarebbero stati per primi perciò wow oggi mi piacerebbe parlarvi delle domande tanti di voi magari conoscete almeno in parte almeno delle domande aperte di access consciousness eppure sembra così facile da non usarle tipo sì certo cioè tu mi stai dicendo che per esempio una domanda come a chi appartiene questo può veramente cambiarmi la vita certo come no quindi per non rischiare non la uso io sono rimasta sorpresa di quanto di quanta capacità hanno queste domande a creare un cambiamento nella nostra vita dico sempre che non sono le domande a creare cambiamenti siamo noi attraverso le domande che cambiamo la nostra vita eppure queste domande o le domande in generale aperte di access sono davvero atte nel creare cambiamenti dinamici e facili immediati come per magia è incredibile quello che si può creare essendo disposti a essere nella domanda e non andare più in una conclusione nella risposta nella mente è totalmente un altro modo di funzionare ed è anche molto più funzionale un esempio per percepire cosa crea una domanda piuttosto che una risposta è davvero possiamo anche farlo adesso mettiamo caso che qualcuno vi dice no abbiamo guardato non è possibile eseguire questa operazione per lei cosa avvertite e magari vi diciamo vedi non è possibile che esegua questa operazione per me percepite l'energia ok nel caso contrario tra virgolette contrario tipo ok la persona mi ha detto che non è possibile che esegua l'operazione per me e cos'altro è possibile come può migliorare questa situazione perciò piuttosto che reagire a quello che mi è stato detto e andare sempre di più nella pesantezza sempre di più nella pesantezza sempre di più nell'oppressione o nell'impossibilità o nella nel fermo nella solidità io sono lì tipo mi viene passata una palla io la guardo e mi soddisfa più di tanto questa palla ma non reagisco a questa palla la guardo e dico cos'altro è possibile quale altra possibilità c'è qui che non ho ancora considerato semplicemente per la vostra disponibilità di non reagire ed essere nello spazio del la guardo lo osservo e cos'altro è possibile notate l'energia in questo caso come cambia si apre una porta ogni domanda porta apre delle porte apre come se cliccaste un bottone e questo aprisse una porta o giraste una chiave in asseratura e questa aprisse una porta che non esisteva forse prima o a cui non avevi la chiave o di cui la gente si era scordata ci fosse di questa porta perciò quale invito a una possibilità diversa a nuove possibilità potete essere essendo disposti a essere nella domanda e questo vale per ogni area della vostra vita per ogni ogni situazione per ogni relazione per ogni business per ogni momento della vostra vita più siete disposti a essere nella domanda e più le cose possono cambiare migliorarsi e trasformarsi l'ideale sarebbe di essere sempre nella domanda ok perciò una domanda porta ad un'altra domanda questo fa sì che noi siamo davvero presenti perché una delle altre cose che le domande permettono essere presenti nel momento in cui la facciamo da che siamo in balia dei pensieri da una parte all'altra la domanda ci rende presenti e allo stesso tempo essendo presenti potete creare la magia che è disponibile in quel momento se siamo distratti dalla mente raramente viviamo nel presente e non vivendo nel presente non possiamo neanche usarlo a nostro vantaggio per creare le possibilità che vorremmo perciò quando fate domande avete molteplici benefici sia create nuove possibilità sia usate a vostro vantaggio il momento che state vivendo sia cambiate totalmente la dinamica che avete di fronte e non solo le domande possono assistere nel cambiare cose del passato cose su cui vi siete fossilizzati che avete comprato come veri reali quelle che avete dato per assodato che siano giuste in quella maniera o siano sbagliate in quella maniera tutte quelle cose che in realtà vi appesantiscono di tanto e che neanche pensavate di potervi scrollarvi di dosso perciò il mio invito in quanto anche facilitatrice di parlare di access cash se parlare con l'entità è quello di stimolare questo muscolo della domanda e usarlo anche quando non sapete quali domande fare nel corso del tempo a chi ha fatto chiediti sarà dato il percorso con me di venti giorni in cui ci alleniamo ogni giorno alle domande dico sempre beh se non sapete che domande fare non state lì a dire non so che domanda fare piuttosto di quale domanda posso fare adesso quale domanda contribuirà di più fare adesso quale domanda contribuirà di più essere adesso e già l'energia cambia perché già semplicemente chiedendo che quell'energia si mostri che quella della domanda si mostri quella domanda ha un'energia quindi vi riferite a quelle energie che in realtà già cambia le cose perciò come sarebbe se cambiare tutto fosse molto più facile di quello che potreste mai aspettarvi come sarebbe cogliere lo spazio della della possibilità della facilità nella vostra vita e come sarebbe se cambiare le cose fosse facile e forse anche il motivo per cui la gente non pensa si possa fare invito alla facilità a scegliere per voi a scegliere più in grande a scegliere le infinite possibilità e a usare questo meraviglioso strumento che sono le domande aperte senza l'intermedio della mente finalmente mandate in vacanza la vostra mente perciò quale domanda potete fare adesso che aprirà le porte alle infinite possibilità e cosa vorreste creare a quelle domande possono assistervi una questo argomento lo approfondisco tanto sia sul mio canale youtube che bianca l'anna chiamata lì ci sono tipo più di 150 video che si sono accumulati nel tempo c'è proprio una libreria video straordinaria e sul podcast nel podcast maga moderna ne ho parlato in varie puntate tra cui buona domanda come fare incantesimi quella è una puntata super figa e ce ne sono anche altri mi pare dove mi chiede riceverai ne ho parlato un'altra puntata si chiama così e vi invito davvero tanto a sentirle e a fare domande in merito anche sotto queste dirette detto questo ragazzi ci vediamo domani alle 18 proprio in piena classe facelift qui a verona c'è ancora modo di aggiungersi e in realtà domani sera ci sarà anche l'introduzione a parlare con l'entità una classe serale di due ore in cui avrai modo di approfondire l'argomento dell'entità degli spiriti e avrai i primi strumenti con cui iniziare a gestire la tua consapevolezza di entità o semplicemente alleggerire la tua consapevolezza di entità in maniera facile pratica e pragmatica ti invito a esserci e tutti i link necessari ci saranno nei commenti Laura dice lo faccio la meglio lo faccio la meglio questo weekend mettere a riposo la mente assolutamente entrambe queste classi facebook parlare con l'entità è proprio un allenamento a essere piuttosto che pensare e quindi uscire fuori dalla mente e mettere la mente a riposo se anche un grosso abbraccio ci vediamo domani alle 18 con tanto furore e tanta gioia un grosso abbraccio e buona festa ancora dai morti come potete celebrare stasera e quanto contributo potete ricevere dai vostri cari che non hanno più un corpo e quale contributo potete essere voi per i vostri cari che non hanno più un corpo e come sarebbe onorare il nostro corpo già che ci siamo e ce l'abbiamo un grosso abbraccio ragazzi e a domani ciao